I morti è meglio che non vedano quel che sono capaci di fare i vivi, è la strada storta che sta prendendo il mondo. È meglio che non si accorgano nemmeno che noi siamo diventati così poveri e tanto miseri che non siamo capaci di volerci bene. No, è meglio che i morti stiano nella neve e nel ghiaccio e che non sappiano di noi, altrimenti potrebbero pensare di essere morti in vano e da allora si sentirebbero ancora più soli. Gian Maria Bonaldi, combattente dell'Adamello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.